Musica Mercoledì 28 dicembre, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 C'è l'informazione locale di prima mattina alle 7.30 e siamo in diretta da lunedì al sabato in replica anche sul sito internet occhianotizia.it E poi nei vari orari che ormai consueti che conoscete Partiamo dal Santo del Giono, oggi in realtà la Chiesa Cattolica ricorda un fatto accaduto quando Nerone uccise migliaia di bambini Il re Erode, scusate non Nerone, Erode e la Chiesa onora questi martiri come questa schiera di fanciulli Vitti megnari di re Erode strappati dalle braccia materne in tenerissima età per scrivere con il loro sangue la prima pagina Dell'albo d'oro dei martiri cristiani e dunque meritare la gloria eterna secondo la promessa di Cristo Il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.39 Vediamo il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con aumento della copertura dalla tarda serata nel settore meridionale della regione Le temperature sono in diminuzione nei valori minimi Per la giornata di domani invece avremo probabili condizioni di cielo nuvoloso Notte e tempo nel settore meridionale, per il resto sereno poco nuvoloso Non si escludono brevi ed occasionali fenomeni notte e tempo ridosso dei rilievi sempre del sud della regione Le temperature sono in diminuzione Per quanto riguarda la previsione di venerdì 30 di dicembre Cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve diminuzione nei valori minimi Attenzione, tempo stabile sulle Marche almeno fino alla giornata di domenica Con temperature in lieve ripresa nei valori massimi Dunque questa è la situazione del tempo Adesso andiamo a vedere subito i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico La notizia è una notizia che arriva da Pesaro, notizia di cronaca Un rapinatore che alle 3 di notte è entrato all'hotel Excelsior Che è l'hotel più lussuoso della città di Pesaro Un 5 stelle, alle 3 di notte è entrato come se fosse un normale cliente Puntava al Rolex probabilmente Però alla fine si è fatto consegnare i soldi in cassa I soldi della cassa o ti ammazzo? Ha detto al receptionist Quindi notte di paura sul lungomare Minacciato il portiere del 5 stelle Bottino 18 mila euro dicevamo Poi a centropagina invece la notizia che riguarda A un meglio la decisione che riguarda i titolari della caffetteria del Borgo Che hanno deciso di togliere le slot machine dal loro bar A Vallefoglia c'è un'ordinanza invece con orari più restrittivi Basta dicono loro con questo gioco rovina famiglie Lo vedremo tra un attimo Ripartiamo però dalla notte di paura all'Eccelsior La cassaforto ti ammazzo Un rapinatore rompe nella ola le 5 dell'hotel 5 stelle E minaccia il portiere Fuga a piedi con 18 mila euro Si è rotta dunque la tregua delle feste E dunque la questione sicurezza Torna alle croneche in una Pesaro ancora sopita nei festeggiamenti Su tutti l'agguato all'Eccelsior Il 5 stelle su un lungomare fortemente voluto dall'imprenditore Nardo Filippetti È diventato in pochi anni un punto di riferimento delle vacanze con stile Poco prima delle tre un uomo travisato da una sciarpa pesante che gli mascherava il volto È entrato nella hall passando dall'ingresso su Viale Trieste Il Movimento è con un accento dell'est Si è poi dileguato con i contanti per le strade del mare E quindi di lui adesso al momento non ci sono più notizie Raffica di furti invece anche nelle abitazioni E questa è un'allarme sociale che per i sindacati di polizia Non sempre questi furti vengono denunciati Quindi sono dati in qualche modo da rivedere Sono dati quelli forniti dalla Prefettura di Pesaro In merito ai furti in provincia Che sono passati da 5.971 a 5.101 Dunque sono diminuiti dal 1 gennaio al 15 dicembre del 2016 Ci sono però per il fine anno posti di blocco, controlli Sarà un San Silvestro in sicurezza La Prefettura ha predisposto il piano con un occhio di riguardo e di attenzione ai centri storici A Pesaro sono state installate delle fioriere antitir Per il periodo delle feste Ma la disposizione suscita perplessità Eccola qui la disposizione a Pesaro Queste fioriere quasi al centro del corso Come diceva ieri il responsabile della Digos Nel nostro telegiornale Sono state messe in modo che si possa rallentare la velocità dei veicoli Facendogli fare appunto un po' di zizzag Basta con il gioco rovina famiglie Torniamo sempre sull'argomento in copertina A fine anno togliamo l'ultima slot La decisione dei titolari della caffeteria del Borgo Nel bar di Pantano rimosse tutte le macchinette E sotto dicevamo E poi ecco la dichiarazione interessante Di questi coraggiosi ma bravi sicuramente baristi titolari I guadagni dicono loro ne risentiranno certamente Ma siamo stanchi di vedere gente ossessionata da queste macchinette E dopo Pesero anche Pian del Bruscolo dice appunto Mette un freno perché il presidente dell'Unione dei Comuni Palmiero Ochchielli ha firmato un'ordinanza Che stabilisce nuovi e più restrittivi orari per l'attività delle sale giochi Al fine di contrastare la ludopatia A partire dal 1 gennaio 2017 Infatti l'orario di esercizio delle sale giochi è stato fissato Dalle 10 alle 23 di tutti i giorni festivi compresi La pagina di Fano, Parco Urbano, la Fano Fenile e le Rotatori Ecco il piano del sindaco di Fano Massimo Seri Che spiega quali sono le priorità per il nuovo anno E apre al confronto per l'ex distributore dell'Agip Dove un tempo c'era il distributore di carburante Adesso non c'è più niente È un piazzale completamente vuoto E dunque il sindaco dice Il nostro orientamento non è quello di costruire un parcheggio Come ho detto intendiamo confrontarci però con gli operatori Mentre su Piazza Miani Seri dice il nostro sogno è portarci la statua per una fontana Realizzata da Vagni Sui social network invece c'è un video parodia Sulla inaugurazione dell'Interquartieri Hanno ripreso alcune scene di un film famosissimo Jurassic Park Hanno modificato il logo E ci hanno scritto al posto di Jurassic Park Interquartieri Benvenuti appunto nell'Interquartieri Il video parodia è già virale Le barriere acustiche spopolano su Facebook Per analizzare invece tutto il centro storico di Fano E la proposta dell'ex presidente di Aset Holding Antonio Fortuna In ottica turistica Via Cavour e Via Nolfi sono dice da liberare Fano è meglio di Pesaro per il numero dei parcheggi Sempre Antonio Fortuna Lo vedete ex presidente di Aset Holding Dice che questi spazi con adeguato design Sarebbero fruibili tutto l'anno Una donna che era ricoverata nel reparto di rianimazione Del Santa Croce è morta nel giorno di Santo Stefano La famiglia ha deciso di donare gli organi Questa è l'altra notizia che leggerete Sempre sul Corriere Adriatico di oggi La povertà non va in vacanza Invece pienone nella mensa di San Paterniano Per il pranzo di Natale Sono stati serviti pasti per 55 ospiti La gestione dell'opera Padre Pio Dice sempre più richieste Ma aumentano anche gli aiuti che danno una mano Assente invece il Vescovo Trasarti Impegnato a portare conforto nei luoghi del sisma E ancora nella pagina della Valla del Cesano Il problema della strada provinciale 42 Che come si può vedere anche dalla fotografia Pubblicata dal giornale Insomma è in condizioni penose Il sindaco di San Giorgio di Pesaro Che tra l'altro sarà ancora sindaco Antonio Sobastianelli per qualche giorno Fino al 31 di dicembre Indica le criticità delle strade Poi l'appello del collega di Orciano Servono interventi straordinari Per tutti i movimenti franosi Da Senigallia invece ancora si parla Dopo lo shock della morte di un famoso barman Cristian Giorgini che qui vedete nella fotografia Con il papà Gualtiero Questo 41enne barman si è tolto la vita E il papà di Cristian appunto adesso dice È impossibile dovevamo vederci E quindi non si dà pace Gualtiero Giorgini è sotto shock A trovarlo a terra dopo il volo della finestra È stata la compagna Mentre il sindaco di Senigallia Mangialardi dice Davanti a una simile tragedia C'è spazio solo per il rispetto Città di Senigallia incredula Per la morte del barman titolare del Mille Luci Il dolore appunto del sindaco E ancora andiamo sulla pagina di Fossombrone Cure intermedie, rivoluzione ufficiale I tre ospedali avvisati formalmente Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro Dicono addio alla lungodegenza Saranno gestiti da infermieri e medici di famiglia Ruggeri, patto di piaggia unico baluardo Bossi, situazione drammatica Andiamo ancora sulle ultime due pagine del Corriere Sempre da Pesaro Il Leonardo Conteso resta in Svizzera Parliamo del quadro Il tribunale di Bellinzona ha detto no all'esproprio Il quadro rimane a Emilia Cecchini Il legale è un suo diritto Dicono averne la proprietà Finché non ci sarà un provvedimento definitivo Intanto il processo va avanti E la sentenza è attesa per il prossimo marzo Un brand invece per lanciare Il Rossini Ghiottone Cultura e cucina allo studio Il logo obiettivo valorizzare le tipicità È un patto rossignano del Tartufo Con i sindaci di Pesaro e di Acqualagna Nel circuito saranno coinvolti ristoranti, bar, pasticcerie e attività commerciali E adesso andiamo sul resto del Carlino Il resto del Carlino la foto è per questo gruppo di cinesi che è in vacanza In questi giorni a Pesaro ci salvano loro, ci salvano i cinesi A San Silvestro per tutto dicembre presenze falcidiate dalla sindrome del terremoto Il turismo si risolleva in parte solo grazie agli eventi sportivi Nelle pagine interne da Fano, Anima Lido, la spiaggia dedicata ai cani Ma altro che spiaggia da cani, questo è il titolo Previste un'area giochi, toilette e pure acqua nebulizzata Che servirà ai cani per combattere l'AFA Esordio nell'estate del 2017 per lo chalet atteso da tre anni E questa è la spiaggia libera, vedete la spiaggia in questione Dopo l'ok della conferenza dei servizi potranno partire i lavori in tempo Dunque per la bella stagione del prossimo anno Anche qui sul primo piano del resto del carrino Puntava i Rolex, è fuggito con 18 mila euro La rapina all'Eccelsior, caccia un uomo dell'est, corpulento Scappato a piedi, suona il campanello alle tre di notte E si fa aprire come se fosse un normale cliente E ancora, fusione Aset, torniamo sulle pagine di Fano Fusione Aset, i sindaci disertano in massa Tesi in venti dal notaio, ma ne arrivano soltanto cinque Votano in due, Masseri dice tutto a posto Il primo cittadino di San Giorgio ha chiesto di sapere il valore di liquidazione delle sue quote E poi ancora notizie sotto, come vedete l'espianto di organi del Santa Croce Donati, reni, fegato e corne Bel gesto dei familiari di una paziente Le destinazioni sono per Ancona, Bergamo e la Banca degli Occhi di Fabriano E poi il Carlino ricorda anche che il sindaco di Fano ha vietato con un'ordinanza i botti di Capodanno Quest'anno però ci sono delle eccezioni Sono consentiti i fuochi a basso potenziale di pericolosità e rumore Quindi non tutti i fuochi sono vietati L'ultima pagina da Fossombrone Caglio Urbania è quella che riguarda il funerale di Daniele Ciabocchi Morto ad Acqualagna, centinaia di persone al funerale del 48enne Che è morto in casa per le esalazioni di fumo E poi sotto il sindaco Bonci, il sindaco di Fossombrone Risponde alla minoranza e dice Ecco i fatti, ecco tutto quello che ho fatto finora La rassegna stampa finisce qui Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 Grazie per averci seguito A voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie per aver guardato il video